eccoci qui buon pomeriggio a tutti ben trovati nuovo appuntamento webinar questa volta in collaborazione con leon tech ma al ritorno dalla pausa estiva è la prima occasione eh di incontro con leon tech per chi è stato presente alla salone del risparmio a Milano invece c'è stato un evento che abbiamo svolto assieme la platea per evidenti motivi di covid non poteva essere alla piena capienza ma è stata una bellissima esperienza parlando con Pietro Salcomando e con Anna Berto mi dicevano che in realtà al salone c'è stata una grande affluenza soprattutto allo stand per questo inizio immediatamente a salutarli a presentarli quindi per per ovvi motivi parto da Anna ciao Anna buonasera ciao Pierpaolo buonasera a tutti grazie per essere connessi con noi anche il nostro primo webinar dopo la pausa estiva come dicevi correttamente grazie a tutti coloro che sono passati a salutarci a trovarci a vederci di persona in occasione del salone a Milano perché ovviamente non è potuto venire siamo contenti che sia comunque connesso qua oggi con noi e quindi grazie a te Anna per ora sono in webcam solo io poi se riusciamo insomma vediamo un po' come al solito un problema di tenuta della banda e quindi cercheremo di fare in modo che si senta bene a scapito magari del video e Pietro ciao buonasera buonasera a tutti anche da parte mia e oggi io sono a casa non sono in ufficio con Anna comunque sono presente e quindi un saluto a tutti ben trovato Pietro quindi una bella esperienza quella del salone un ritorno alla normalità anche se appunto con tutte le misure di sicurezza e green pass eccetera eccetera insomma però siamo riusciti comunque a fare un qualcosa di diverso rispetto all'ultimo anno e mezzo in quell'occasione con Marco Chetti abbiamo parlato di combinazioni di certificati torniamo a parlarne anche oggi quindi andremo a vedere nuovamente in realtà le vedremo un po' meglio oggi che è l'occasione di confrontarci anche così via web con eh con coloro che notoriamente tipicamente insomma seguono questo ciclo e quindi parleremo delle nuove combinazioni certificati poi come sempre qualche idea selezionata sul secondario tra certificati autocall di diverse tipologie e poi qualsiasi tipo di segnalazione idea spunto dovesse arrivare da parte vostra ricordo soprattutto perché è il primo appuntamento dopo l'estate potrebbe esserci qualcuno che si sta collegando per la prima volta che il webinar è in fase di registrazione e che sarà possibile rivederlo da domani diciamo domani e lunedì sul nostro canale telegram di certificati e derivati per quello che riguarda invece le domande fatele c'è un pannello sulla destra del nostro monitor partecipate attivamente eh perché così insomma si riuscirà a dare il meglio in questa ora che ci accompagnerà in questo pomeriggio bene allora non so se riesco a andare in onda il classico commento di fine giornata ma abbiamo qualche problema forse stavamo riflessando il terminale ma va bene diciamo che possiamo anche per ora farne a meno giornata comunque ancora una volta positiva il che chiaramente è un bene non lo dico con dispiacere eh insomma la federa riserva ieri sera ha cominciato a pronunciare con un po' più decisione la parola del tapering ma i mercati sembrano essere assolutamente preoccupati quindi nuovi rialzi anche nella giornata di oggi un po' per tutti i listini si continua a navigare eh in acque tranquille e vedremo fino a quando questo naturalmente ci sarà permesso e mh altre notizie insomma c'è stato un po' il recupero oggi di Enel quindi finalmente ha interrotto la sua discesa con una chiusura che adesso non so poi com'è stata ma a certo punto guadagnava oltre il due per cento e tra gli altri temi ancora una volta in ottimo in ottimo andamento degli ultimi giorni il settore bancario eh questo un po' anche in scia a quello che è il tema legato ai tassi di interesse eh parleremo di inflazione lo faremo perché eh ci sono due nuovi novità in realtà sono entrambe della stessa tipologia le possiamo già iniziare a vedere poi chiederò ad Anna e a Pietro di approfondire e un poco più avanti ovvero di due warrant quindi non sono le veri e propri certificati insomma è comunque un funzionamento eh un po' particolare ma ne avevamo già parlato in qualche precedente appuntamento quindi parleremo dell'inflazione che è sotto i riflettori e grazie Stefano mi conferma sì poco poco sotto il due insomma intorno a un due per cento e quindi parleremo di questa novità alla quale abbiamo dedicato un articolo o un approfondimento sul sito di certificati e derivati per chi volesse poi andare a leggere un po' meglio potrà farlo anche in un secondo momento va bene allora eh qui c'è Giovanni che ci fa una domanda a proposito un certificato che balla sulla barriera e quindi magari cosa fare e fra poco lo magari Giovanni prenderemo in un momento faremo un passaggio su qualche Aisin e cercheremo di rispondere anche a te torniamo però a eh sul sito eh per iniziare a parlare quindi delle combinazioni certificati ormai nei nostri appuntamenti ne parliamo sempre però vengono aggiornate mensilmente quindi ci sono queste nuove del diciassette di settembre e sono tre nuove combinazioni a questo punto non so chi di voi tra Anna e Pietro vuole commentare? Sì eccomi qua certo. Vai Anna racconta. Allora sì questo è un esercizio che ormai da un po' di mesi noi eh svolgiamo periodicamente cosa andiamo a fare andiamo ad individuare eh i nostri certificati eh sul secondario autocall che rispettino eh determinati parametri ovvero che siano in euro che siano eh chiaramente negoziati su eh euro TLX o SEDEX eh che abbiano tutti i sottostanti con una distanza minima dal rispettivo livello di barriera di almeno il trenta per cento e che abbiano un prezzo eh pari o inferiore eh a mille al prezzo al rispettivo prezzo prezzo nominale e andiamo a creare tre tre combinazioni perché tre perché ehm una riguarda diciamo la volatilità realizzata più bassa una il rendimento atteso eh più alto e una invece il rapporto tra rendimento ehm annualizzato e volatilità più alto e facciamo questo esercizio perché chiaramente avendo oltre settecentocinquanta certificati in emissione magari per chi eh si approccia un po' al nostro eh al mondo dei certificati non è subito eh facile andare a individuare a selezionare eh i certificati prodotti che facciano al caso proprio e quindi diamo un un calcolo in più dei delle combinazioni in più che possono essere utili appunto a quegli investitori che vogliono ehm un po' diversificare il l'esposizione ai vari sottostanti ma che comunque vogliono anche una sorta di indicazione eh su quali eh parametri andare a valutare e quindi eh individuo individuiamo tre combinazioni ora direi di partire dalla prima ecco sì vedo che stai facendo vedere la pagina dedicata dove appunto andiamo a riportare tutti e eh come vedete la prima è eh la combinazione con il rapporto più alto tra rendimento e volatilità. Qui ogni combinazione ha quattro è composta di quattro certificati autocollable come dicevo i quali devono avere tutti eh sottostanti diversi quindi non vi sono ripetizioni nei sottostanti. Eh da qui possiamo vedere quelli che sono appunto i quattro certificati selezionati per la prima combinazione eh combinazioni che appunto come dicevamo vengono svolte su base periodica e chiaramente tutti i dati si riferiscono al giorno della data di calcolo che in questo caso è stato il diciassette settembre ehm e qui andiamo a vedere che appunto il rendimento eh il rendimento atteso è di un dodici e ventitré annualizzato la volatilità è di un cinque e trenta e la durata media è di un anno eh un punto quattro anni quindi questi sono i dati della prima combinazione per coloro per diciamo quegli investitori che invece vogliono andare a dare maggior eh ecco Anna prima di passare scusami prima di passare alla seconda volevo comunque eh chiarire sul rendimento medio atteso annualizzato diciamo è abbastanza facile detto che poi come abbiamo fatto vedere prima qui c'è la spiegazione di il insomma delle dei vari criteri no quindi cos'è il rendimento medio attese cioè mi interessa sempre in realtà sottolineare l'aspetto della volatilità perché perché comunque qui ad esempio no se noi leggiamo questa prima combinazione verrebbe da dire è comunque un portafoglio estremamente difensivo con una volatilità realizzata del cinque trenta se pensiamo una volatilità un VIX in area sedici diciotto qui abbiamo una volatilità realizzata del cinque trenta si ha la sensazione che sia un portafoglio estremamente difensivo e quindi ecco però ci ci tengo in realtà a sottolineare lo possiamo vedere qui e quindi assolutamente che in realtà è la deviazione standard storica cioè praticamente la volatilità storica degli ultimi giorni assolutamente è assolutamente la volatilità storica infatti invito comunque tutti i nostri ascoltatori i nostri investitori a chiaramente studiare questa pagina dove vengono riportati tutti i dettagli ora nel webinar non abbiamo tempo appunto di andare a leggere tutto ma assolutamente da sottolineare come hai fatto tu che si tratta assolutamente della volatilità realizzata chiaramente noi cerchiamo di spiegare tutto nel modo più chiaro e anche utilizzando le terminologie più semplici possibili ma laddove vi fossero dei dubbi invitiamo comunque tutti i nostri ascoltatori a scriverci o a telefonarci quindi assolutamente liberi di farlo e bene sottolineare anche questi dettagli assolutamente ecco poi approfitto e quindi ecco era solo per chiarire naturalmente che quando si parla di volatilità storica naturalmente prendiamo in considerazione gli ultimi tre mesi che sono stati caratterizzati da bassa volatilità dopodiché il mercato può decidere da un oggi al domani di invece cambiare un po' in trend e quindi la volatilità effettiva potrebbe essere poi più alta e rendimento medio attesa annualizzato anche qui dato che ci sono un paio di domande in particolare una quindi approfittiamo è il rendimento che tiene conto di tutte le cedole quindi se si verifichano le condizioni del pagamento di tutte le cedole con riferimento alla durata attesa del certificato e del prezzo di mercato quindi naturalmente non è una garanzia eccetera eccetera quindi tasso medio cedolare più cento per cento meno il prezzo medio percentuale diviso la durata media attesa e allora perché ti faccio questa domanda Anna e ti chiedo a questo punto di approfondire perché qui giustamente dico io dall'impressione no però è il motivo probabilmente io lo ho intuito ma vorrei che lo ce lo dicessi tu come mai questo primo portafoglio questa prima combinazione da un rendimento medio atteso del 12 e 23 se i quattro certificati hanno cedole condizionali annue tra il 6 e il 12 per cento cioè come ci si arriva al 12 e 20 se quello massimo è 12 beh perché chiaramente le cedole sono una delle componenti ma come dicevamo anche se si acquista un certificato ovviamente sotto la pari sia si va aggiungere al calcolo del rendimento perché quando verrà rimborsato questo sta proprio lì oggi è salito probabilmente altrimenti forse non sarebbe stato lì perché un'altra condizione mi sembra che era che dovevano stare sotto la pari no? sì però ripeto questo è stato calcolato il 17 di settembre quindi chiaramente i dati ad oggi sarebbero per forza di cose diverse perché il mercato si muove costantemente e noi è un esercizio che cerchiamo di fare spesso circa una volta al mese comunque periodicamente è chiaro che non riusciamo ad aggiornare i dati ogni giorno per cui è importante sempre verificare esatto è importante verificare comunque quando è stato fatto il calcolo e a quando si rifanno i dati va bene e comunque questo era insomma una legida curiosità e l'abbiamo abbiamo risposto pertanto tiene conto anche del prezzo di mercato sotto la pari questo riferito naturalmente al 17 quando è stata lanciata poi prima di procedere eventualmente alla valutazione uno prima se li guarda Stefano dice allora suggerisco di indicare la data di quando è stato calcolato il rendimento mediatteso credo che ci sia però eh qua data di calcolo Sì in grande è la prima scritta c'è scritto sotto combinazioni di certificati e appena sopra il grafico quindi insomma cerchiamo di evidenziarlo in modo chiaro Poi stavi passando alla seconda ti ho interrotto però ecco stavamo andando a vedere la seconda combinazione Esatto la seconda combinazione diciamo che eh si concentra va a individuare di fatto eh è una combinazione che individua quei quattro certificati dell'universo in cui vengono appunto presi che danno il più alto rendimento medio atteso annualizzato e al 17 settembre 2021 la combinazione prevede questi quattro certificati che vedo ora sul monitor in evidenza quindi in questo caso insomma ovviamente il premio il il premio annuo del 15% corrisponde a poco meno di quello che è il rendimento medio atteso perché sicuramente anche qui ci saranno tranne Enel e Iperdrola che mi sembra sia lo stesso no? Quindi esattamente e ci sarà qualcosa che quota anche qui un po' sotto la pari e quindi questo è quello un po' più aggressivo se vogliamo esatto questo è il più aggressivo tra tra le la combinazione più aggressiva delle tre mentre la terza è quella meno aggressiva perché qui si va a individuare la combinazione con il più basso indice di volatilità realizzata negli ultimi eh novanta giorni e qui quindi possiamo dire perché prima scusami Anna io prima allora in maniera forse un po' in frettolosa ho definito il primo il più difensivo in realtà è questo il più difensivo esatto il primo è un po' il primo è più difensivo se vuoi rispetto al secondo però eh il la combinazione due è la più aggressiva tra le tre la tre la più difensiva mentre la uno va a cercare una media di questi due fattori esattamente quindi si danno queste tre combinazioni che sono tutte eh studiate solo su eh dati numerici ehm e quindi ecco sono tre combinazioni per cercare di eh dare un'idea anche ai nostri investitori su quali possono essere in quel in quel momento delle delle combinazioni appunto che diano eh più importanza alla volatilità piuttosto che al rendimento piuttosto che al rapporto dei due. Guarda volevo approfittare insomma visto che quello su Enel è presente in diverse nelle due combinazioni nella terza no io se mi permetti faccio velocemente un passaggio per dargli un'occhiata perché oggi i certificati su Enel mi stanno interessando insomma un po' tutti perché chiaramente arriviamo da una fase molto negativa oggi Enel potrebbe aver frenato l'emorragia e pertanto potrebbero essere effettivamente interessanti eh da guardare. Allora in questo caso diamo un'occhiata rapida si tratta di un classico Phoenix Memory emittente IFG quindi comunque del gruppo ehm dell'universo insomma le on tech scadenza dicembre ventitré andiamo a vedere i sottostanti Iberdrola Enel RWE quindi un po' tutto il settore energetico utilities con Iberdrola ed Enel worst off eh con Iberdrola che perde il diciassette per cento ma guardiamo le cedole uno cinquantatré e tre a trimestre quindi siamo nell'ordine di un sei per cento annuo come come cedole finora pagate tutte regolarmente e l'analisi di scenario che forse appunto giustifica un po' anche quanto dicevamo prima è vero che ha una cellula annua di circa il sei per cento ma acquistandolo sotto la pari ecco che si va al nove e ottantotto annualizzato in questo momento quindi fino a meno ventuno per cento da adesso potrebbe essere una buona opportunità per cogliere insomma un rimbalzo una delle opportunità eh questo non vuol dire che chiaramente è la migliore in assoluto stiamo presentando però insomma magari quella che può essere un'idea ehm ti ho interrotta Anna non so se volevi completare il pensiero perché poi ci sono un paio di domande beh allora no possiamo andare poi a vedere eventualmente ogni certificato ma trattandosi di quattro certificati per combinazione a parte questo che che siamo andati ad analizzare direi che insomma l'idea era di presentare questo esercizio poi se di interesse vi invito assolutamente a andare a vedere i i certificati che compongono ogni combinazione e di nuovo se avete delle domande a riguardo noi siamo qui a disposizione per aiutarvi a cercare di far chiarezza. Allora cosa vuol dire combinazione di certificati? Questa è una domanda che ricorre tutte le volte ma che evidentemente è anche la più spontanea che viene. Cosa vuol dire combinazioni certificati? Cioè si acquista la combinazione o i singoli certificati separatamente? Quindi chiariamo un po' anche. Allora si acquistano i singoli certificati ehm autonomamente perché ehm la la combinazione prevederebbe un'esposizione eh uguale ad ognuno dei quattro certificati. Questa è eh la base su cui viene calcolato il tutto. Eh poi se un investitore è interessato a una delle combinazioni quello che deve fare per eh per avere di di fatto eh vedere rispecchiati i dati che noi riportiamo è investire lo stesso a montare in ognuno di questi certificati ma li si devono acquistare singolarmente si inserisce l'ordine per ogni ISIN. Non vi è eh un modo di mandare un solo ordine di acquistarli tutti e quattro insieme. Ecco io mi permetto di aggiungere Anna che insomma ricordiamo sempre che si tratta di una idea per andare a combinare dei certificati non è un portafoglio, non è una gestione, non è chiaramente un consiglio di investimento che prevederà poi anche una manutenzione perché poi c'è anche da dire questo ricordiamo che le combinazioni si aggiornano più o meno mensilmente e non è che un mese dopo si va a dire rispetto a quella che hai costruito il mese precedente devi cambiare questo certificato quello presupporrebbe tutta una logica consulenziale che evidentemente non è possibile fare. Pertanto ogni mese si dà un'idea dopodiché proprio perché non è una logica di portafoglio è opportuno che ciascuno si faccia le proprie valutazioni però quantomeno tra i settecento quanti ne avete adesso? Settecentotrenta di certificati? Forse settecentosessanta su cerca prodotti vediamo quanti sono io vedo settecentosessantasette circa ok quindi tra i settecentosessantasette certificati l'idea è quantomeno ti faccio vedere i quattro che rispondono meglio e tra l'altro prima l'abbiamo saltato e non è che chiaramente è un quadro astratto questo cioè anche il modo con cui si arriva poi a individuare questi tre queste tre combinazioni di portafoglio perché si fanno insomma migliaia di simulazioni per vedere quali poi possono viaggiare meglio assieme e dare la risposta a quelli che sono i criteri. Uno spunto con un suggerimento se eventualmente insomma potrebbe essere più logico insomma mettere al primo posto l'aggressivo al secondo il medio il terzo il difensivo va bene nel senso prendetevi magari atto vedete se poi eventualmente si riesce a detto che comunque c'è scritto quindi alla fine dove li metti li metti basta che sia spiegato però Ernesto grazie. Andrea anche qui un ottima cioè una domanda intelligente perché tu Anna hai detto di equipesato no? E quindi fare parti uguali giustamente Andrea dice ma l'uguale quantità è intesa come nominale o come controvalore del momento? Allora come nominale ovviamente sì sì scusa come nominale certo. Quindi come nominale va bene allora dunque vediamo se ci sono allora qui c'era un'altra domanda su un certificato qui dove posso trovare o come posso calcolare la volatilità di un certificato avendo la volatilità implicita dei sottostanti che riesco a recuperare. Eh non so se Anna Pietro qui un pochino più tecnica se avete voglia di rispondere magari cioè si può calcolare la volatilità di un certificato possedendo i dati di volatilità implicita dei sottostanti? Allora ti direi se tu avessi i dati di valore del certificato anche su base giornaliera tendenzialmente potresti calcolarlo. I valori di volatilità dei sottostanti non ti danno nessun aiuto a calcolare la volatilità del certificato. Quindi ti direi bisognerebbe utilizzare un bel file Excel scaricare i valori a chiusura di ogni giorno del certificato e poi fare una bella formula e calcolare la volatilità. Io direi così tu Pierpaolo cosa ne pensi? Sì sì no condivido e aggiungerei che il motivo per cui non è sufficiente avere la volatilità dei sottostanti o comunque non è troppo utile perché fondamentalmente è vero che la volatilità dei sottostanti influisce sul delta cioè sulla su quello che è il movimento dei vari sottostanti del certificato però poi ci sono altri parametri come principalmente l'andamento del sottostante stesso la durata eventuali dividendi nel mezzo quindi purtroppo ecco non è sufficiente avere la volatilità del titolo. Certo ti dà una spiegazione perché il certificato si può muovere più o meno in funzione della variazione del sottostante però più semplicemente con una serie storica si può calcolare una volatilità però a quel punto certo non è implicita e comunque grazie Pietro. Va bene allora esistono certificati sulla cannabis magari con col titolo Tilari? No non abbiamo al momento nessun certificato con sottostanti nomi legati al settore cannabis ed è al momento non non è appunto possibile metterne in Italia. Ok e torniamo sulle combinazioni con un'altra domanda poi naturalmente possiamo cambiare argomento se volete o se vuoi ancora aggiungere qualcosa. Lachi dice probabilmente mi ha sfuggito per capire le combinazioni certificati c'è tutto praticamente sono tutti quantitativi i criteri o c'è un intervento manuale di selezione? Tutto quantitativo come sottolineavi tu correttamente non è un portafoglio non è una gestione attiva non è un servizio di consulenza è solo un calcolo quantitativo che noi offriamo periodicamente e che mettiamo a disposizione. Ok esistono certificati sulle materie prime? Sì esistono certificati sulle materie prime come trovarli? Allora andando su cerca prodotti possiamo provare esattamente a inserire direttamente direi nella barra ricerca o nella tipologia di sottostanti quindi o nei filtri a sinistra su valori sottostanti piuttosto che direttamente nella barra ricerca si può andare a inserire vediamo la materia prima che interessa facciamo un test quindi valori sottostanti? Ok direttamente qui e non so che materia prima? Proviamo a scrivere oro viene fuori qualcosa sicuramente dovrebbero essere cinque certificati esattamente e quindi questo è un modo. Esatto. Diciamo così per rispondere un pochino più in maniera più ricca da Alberto che il segmento dei certificati di investimento guarda alle materie prime ma non in maniera così diciamo assidua cioè voglio dire che i prodotti legati alle materie prime non sono tantissimi perché comunque quando crei una struttura di investimento c'è da dire anche che una materia prima come può essere un natural gas può essere un petrolio comunque avendo insomma delle scadenze mensili con dei contratti spesso e volentieri anche con un contango si fa un po' più di fatica a costruire strutture che sul lungo periodo possano dare spazio allo strutturatore e quindi in quel caso magari si trovano più facilmente dei prodotti a leva che possono seguire maggiore in maggiore con maggiore dinamicità anche i rollover e detto questo ad esempio l'oro invece è uno o l'argento mi sembra anche insomma sono i metalli preziosi è un po' più facile ecco per dire rame non so adesso non so qual è la materia di prima di interesse ma non credo che ci sia ma non solo nell'offerta di leontech parlo in generale come di investi prodotti investimento su materie prime che non siano le principali materiali preziosi o petroliferi non mi sembra ci siano comunque insomma il filtro c'è eventualmente poi può approfondire non so se posso aggiungere qualcosa assolutamente corretto noi per esempio proviamo sempre a prestare in diverse situazioni di mercato prodotti sulle materie prime come diceva Pierpaolo le volatilità sono basse non ci sono dividendi quindi chiaramente è difficile fare venire fuori dei dei autocolli interessanti diciamo però ci sono ogni tanto degli spike di volatilità che ci consentono di fare dei prodotti un po' strani per esempio ne avevamo fatto uno sul corn che dovrebbe essere del gran turco e che non trovavo più sul sito quindi immagino sia stato richiamato ma sono eventi abbastanza rari diciamo ok grazie Pietro allora ci sono due domande due o tre domande che sto tenendo da parte con degli Aisin che ci chiedono un po' cosa fare dei pareri però prima magari vogliamo vedere quelli che abbiamo selezionato assieme Anna sì certo se no insomma va bene possiamo vederli velocemente abbiamo magari lì e poi facciamo nella parte conclusiva diamo un po' di spazio alla alle domande tanto Maurizio aggiunge l'oro ok le società di estrazione come le vedete ecco magari qui invece potrebbe essere un po' più facile perché quelle le varie gold mining barric gold queste qui forse si utilizzano un po' più favorevolmente un po' più facilmente no? Chiaro essendo comunque delle azioni e non delle materie prime hanno delle dinamiche diverse quindi insomma un po' più semplice alle volte strutturare degli auto call su quelle piuttosto che eh sui metalli preziosi. Ok poi il come la vedete adesso Maurizio non so se la tua era una domanda sul come la vedi nell'investirci dal mio punto di vista naturalmente ma vale assolutamente quello che che può valere un'opinione la mia come quella di chiunque altro diciamo che innanzitutto si parla di oro in questo momento particolare insomma è un pochino sotto pressione e in generale comunque sono titoli azionari se il mercato dovesse invertire chiaramente poi vengono giù a prescindere dal settore di appartenenza però in ottica di diversificazione anche per sfruttare la situazione magari di correzione che può esserci stato quella che può esserci ancora eh sì mh ha già acquistato il certificato ok e allora ormai se ce l'hai naturalmente verifica verifica le barriere so buttarlo via non è il caso eh se se ancora poi magari se vuoi dopo possiamo vedere l'eisin eh così gli diamo un'occhiata allora Anna partiamo dal primo questo ricordiamo express la grande famiglia in realtà poi dentro ci sono le varie tipologie qui abbiamo Leonardo Pirelli e Tenaris esatto allora questo è un certificato autocollable probabilmente molti di voi molti ascoltatori sono eh già eh insomma è un certificato comune in una struttura comune in Italia quindi eh andiamola a vedere velocemente però si tratta di appunto un certificato autocollable costruito su un paniere di tre di tre nomi un paniere worst off qui abbiamo scelto tre nomi italiani Leonardo Pirelli e Tenaris è un certificato che ha una scadenza eh naturale di quattro anni ma appunto essendo autocollable può essere richiamato anticipatamente a partire da febbraio del duemila e ventidue e che paga una cedola periodica condizionata ad un trigger eh del sessanta per cento quindi ha una barriera europea scadenza del sessante un trigger cedola del sessanta altra caratteristica che un pochino insomma ci eh ci contraddistingue come le on tech è questo autocoll di tipo step down nel tempo quindi il trigger autocoll parte da cento ma nel tempo poi si abbassa fino ad arrivare a 85 per cento del rispettivo livello di fixing è un emissione e fg quindi non è un certificato le on tech ricordiamo sempre che eh in italia le on tech è presente con due emittenti quindi le on tech e fg eh fg è un emittente diverso ehm da le on tech ma eh partner da quando appunto le on tech è nata per cui è un partner storico con i del quale eh le on tech cura tutto ciò che sono le emissioni di certificati e mh è in euro eh si acquista sulla pari un pochino sopra la pari e e direi che insomma una struttura lineare abbastanza conosciuta ok quindi dieci per cento di premio anno mi sembra i titoli più o meno sono tutti dalle parti dello strike iniziale quindi magari velocemente vediamo anche quello che è la situazione quindi due e cinquanta di premio come dicevamo a trimestre barriera sessanta con effetto memoria questa era una cosa che forse eh ormai siamo abituati a dare per scontato ma ricordiamo che è sempre insomma opportuno e e e favorevole come inserimento l'effetto della memoria perché consente di recuperare eventuali cedole perse qualora i sottostanti dovessero scendere troppo come dicevamo siamo lì tutti e tre praticamente esattamente sui valori di partenza che poi lo strike iniziale è stato fissato il ventisette agosto cioè mi verrebbe da dire è passato un mese non è cambiato niente no perché stanno arrivando tutti là eh tenari se Leonardo e Pirelli ok e e quindi non è cambiato un granché neanche sui prezzi che effettivamente rispecchiano quanto era all'emissione diciamo e qui è è quel mese che è passato in maniera totalmente in dolore non ha portato né vantaggi né svantaggi tant'è vero che il rendimento lo vediamo è sempre questo dieci per cento nove e novanta cinque con barriera esattamente al quaranta per cento eh di distanza quindi questo proprio come se l'aveste messo praticamente ieri e ci chiedono il codice Aisin ch undici ventiquattro quattordici trenta quarantasei ah io faccio una riflessione e poi passiamo a vedere l'altro sul mercato come giustamente detto tu Anna ormai questa struttura è collaudata ce ne sono veramente tantissime tra le vostre adesso saranno centinaia se poi consideriamo tutto il mercato superiamo qualche migliaio quindi è vero che poi a un certo punto le strutture in questo senso si si somigliano tutte e uno va a cercare sempre la particolarità però per una costruzione di portafoglio devo dire poi alla fine una struttura quaranta per cento di distanza sulla barriera effetto memoria tre titoli sì volatili ma neanche in questo caso se vogliamo insomma tenare Leonardo forse un po' di più Pirelli dieci per cento all'anno un posticino nel portafoglio una struttura che può sembrare così banale poi alla fine in realtà eh se lo merita ecco questa è una mia considerazione e' una struttura perché giornalmente ne vediamo ormai a decine e quindi sembrano poi essere più o meno uguali uno si va a cercare per forza la particolarità ma in realtà poi per costruire un portafoglio metti uno come questo e ti sei fatto dieci punti all'anno e naturalmente si fa tutto bene e questo è il primo esatto ricordiamo se va tutto bene il secondo invece che abbiamo ehm individuato lo andiamo a vedere eccolo qui è eh un express su intesa ed unicredit questa è un'emissione leon tech ehm sempre in euro sempre con barriera ehm europea al sessanta per cento però qui andiamo a concentrarci sulle tabelle eh coupon e autocall in questo caso la cedola è molto alta perché si tratta di un venti per cento per anno perché perché il trigger il livello di attivazione della cedola è il cento per cento ovvero il cento per cento del fixing iniziale quindi equivale anche al livello di autocallable in questo caso eh invece non abbiamo come nella maggior parte dei nostri autocallable lo step down o il trigger discendente il trigger di autocall è fisso a cento così come quello di coupon per cui questo certificato pagherà eh la cedola e eventualmente tutte quelle rispettive quando e se verrà richiamato anticipatamente ed è per questo che la cedola è così elevata. Ecco diciamo che quindi questo ci riporta un po' a quella che era la struttura classica degli ex autocallable quindi non c'è il premio anche qualora i sottostanti dovessero scendere ma viene pagato solo se si verifica la condizione per il rimborso anticipato quindi paga quando rimborsa altrimenti non paga e l'Aisin CH 11 29 85 0 1 16 quindi CH 11 29 85 0 1 16 qui c'è di buono aggiungo io una elevata correlazione tra i due titoli il che chiaramente quando si tratta di un basket è sempre positivo per chi compra avere una elevata correlazione perché vuol dire che o vanno tutti e due bene o vanno tutti e due male e poi certo la dispersione in termini di rendimento ci può stare però con una correlazione un po' più alta è un po' più difficile e poi certo che se lo guardiamo agli ultimi sei anni sette anni Unicredit ha sempre fatto molto peggio però dato che le osservazioni iniziano già a dicembre questo potrebbero magari viaggiare a braccetto per i prossimi tre mesi e qui vediamo quindi prima data 13 dicembre rimborso a quel punto se tutti e due rimanessero sui valori attuali sono tutti e due positivi lo vediamo rimborserebbe mille e cinquanta e oggi si compra novecentottanta se questo non dovesse accadere si va a marzo e il rimborso sarà mille e cento fino ad arrivare poi all'ultima data e questa è l'analisi di scenario quindi quarantasette per cento di rendimento se tutti e due rimangono al di sopra dello strike iniziale viceversa protezione del capitale quindi un ottimo buffer del quaranta per cento per proteggere quantomeno l'investimento se poi proprio una delle due va sotto barriera e si perde esattamente su questo Anna vorrei sottolineare solo una cosa per far sì che l'analisi sia completa ricordiamoci naturalmente che prima della data di osservazione di dicembre ci sarà lo stacco del dividendo su intesa San Paolo stacco del dividendo di circa dieci centesimi sono zero virgola zero nove nove sei questo vuol dire che oggi noi stiamo leggendo due virgola quarantadue e novantacinque ma l'opzione che è dentro il certificato che fa sì che il prezzo sia in questo momento a novecentottanta sotto la pari è proprio perché sa quell'opzione sa che verranno staccati i dividendi pertanto in realtà al netto del dividendo si andrà due virgola trentadue e novantacinque ipotizzando che il giorno prima dello stacco intesa sia a questi prezzi quindi attenzione perché il dividendo naturalmente allontanerà un po' pertanto non lo leggete come certificato che sta sotto la pari con i titoli già sopra per rimborsare mille e cinquanta intesa in realtà dovrà recuperare attenzione ci chiedono se è una novità questa no non è una novità comunque assolutamente corretto sottolineare la parte dei dividendi grazie per averlo fatto no non è una novità è una struttura che forse tu pierpaolo sai meglio di me ma che esiste e che era forse più comune di quelli che sono invece gli auto call con con premio periodico anche se i sottostanti perdono un po' dallo strike iniziale era forse un qualcosa che si vedeva di più e che noi comunque eh cerchiamo di riproporre perché eh vogliamo diversificare quella che è la nostra offerta e in questo modo si possono comunque eh raggiungere premi più elevati. Ecco non starò qui a fare diciamo la storia del segmento però effettivamente nel duemiladieci subito dopo il crollo dei mercati sono cominciati ad apparire sul mercato i primi express auto callable ed erano certificati e quindi consentivano di incassare il premio a fronte della tenuta da parte dei sottostanti poi cosa è successo? Il mercato successivamente tra alti e bassi è iniziato a ballare i rendimenti sono scesi e quindi è nata la struttura dei cash collect barra Phoenix che permetteva di incassare che permette di incassare i premi anche in fase di discesa a fronte di premi magari un po' più bassi e gli express sono stati messi un po' nell'angolino perché giustamente qui il rischio è che se i titoli rimangono sotto barriera sotto strike non si incassa mai nulla però hanno una loro collocazione ben precisa che è quella di soddisfare al meglio un'aspettativa positiva o rialzista insomma anche moderatamente positiva sui sottostanti quindi se ad esempio oggi così tra di noi dicessimo da qui a tre sei mesi un anno i bancari saranno positivi rispetto ad oggi o magari potrebbero scendere un po' ecco se chi risponde positivi perché magari punta sul fatto che con l'aumento dei tassi i bancari potrebbero essere favoriti e allora può massimizzare la sua aspettativa con questo certificato chi viceversa è un po' meno positivo e allora è bene che guardi ai classici fenix memory perché a quel punto si incassano i premi anche in fase di discesa assolutamente eh qui di fatto eh si riesce ad avere comunque una protezione del capitale perché ricordo che la barriera di protezione è al sessanta per cento quindi abbastanza profonda però eh le cedole invece sono un po' più a rischio perché appunto come dicevi tu eh solo per chi ha una visione più realzista può essere un certificato ehm più adeguato ecco non rispetto a chi magari invece ha una visione laterale su eh sui sottostanti bene eh terzo certificato e poi facciamo una carrellata di domande e di ISIN segnalati così credo che insomma siamo alle diciotto e venti e quindi ehm il tempo passa ecco è questo vero è l'ultimo che dovevamo vedere questo è l'express su Beyond Meat perfetto sì questo è sempre un express quindi sempre un certificato eh un'emissione LeonTech un certificato che paga eh delle cedole periodiche qui torniamo alla prima struttura perché abbiamo ehm abbiamo il livello di attivazione della cedola eh più basso rispetto al invece al trigger di autocall e perciò eh appunto abbiamo eh una struttura simile al primo dei tre autocallable che abbiamo visto c'è però un una caratteristica che voglio sottolineare che è eh la barriera perché la barriera come eh si può vedere se sali un pochino è eh bravissimo è una barriera che viene osservata ogni giorno a chiusura quindi non è una barriera europea osservata solo alla data di eh scadenza del certificato se arriva a scadenza e non viene richiamato prima bensì una barriera che viene osservata eh ogni giorno alla chiusura e quindi questo vuol dire che naturalmente è maggiormente rischiosa per questo motivo il certificato può tenere una barriera così lontana su un singolo sottostante e prevedere comunque un premio dell'otto per cento con effetto memoria in questo momento vedo un meno sette per Bionmit e prezzo del certificato che è novecentosettantacinque anche qui possiamo velocemente andare a vedere l'analisi scenario però in realtà è importante che tu abbia eh fatto notare l'aspetto della barriera perché così possiamo rispondere a una domanda e anche cioè questa è una domanda che ti faccio io come mai avete scelto di tornare a proporre qualche barriera americana barra continua? Beh allora eh come hai detto tu perché è una barriera continua abbiamo comunque un singolo sottostante una barriera eh profonda e anche un livello di attivazione della cedola abbastanza profondo e comunque una cedola annua dell'otto per cento quindi la barriera diciamo eh daily on close continua chiusura da la possibilità di avere dei premi un pochino più alti a parità se vogliamo di altri parametri rispetto alla barriera europea eh noi siamo qui per dare appunto ascoltare e chiaramente quello che è il riscontro del mercato e dare la possibilità eh di di offrire più tipologie di eh certificati possibili ecco. Ecco attenzione una cosa importante hai detto daily on close il che vuol dire che in realtà è vero che è continua ma non è la continua più rischiosa che c'è che è la con la l'americana pura esatto l'americana pura intraday qui si guarda il prezzo di chiusura può sembrare una insomma una sottilezza ma sottigliezza ma in realtà no perché si sono salvati diversi certificati con con la barriera daily on close cioè praticamente bion mit potrebbe stare al di sotto della barriera durante il giorno poi chiudere al di sopra e poi magari nei giorni successivi ripartire attenzione massimo quindi può scadere in qualsiasi giorno no non è che scade il certificato il certificato scadrà o alla sua data naturale di settembre duemilaventiquattro o eventualmente prima se bion mit rispetto alla condizione di essere almeno al cento per cento quello che può verificarsi ogni giorno è la perdita della protezione condizionata del capitale detto in altre parole e poi Anna naturalmente ti chiedo sempre conferma potrebbe accadere questo adesso sta tutto bene siamo a meno sette paga i premi di novembre paga anche quello di febbraio e fin qui tutto ok dopodiché tra febbraio e maggio duemilaventidue arriva un profondo ribasso di bion mit rompe la barriera al cinquanta per cento a quel punto il certificato segue linearmente l'andamento del titolo bion mit perdendo il diritto a proteggere il capitale ma non viene precluso il pagamento delle cedole che potranno continuare ad essere pagate recuperate qualora bion mit tornasse al di sopra il cinquanta per cento così come il rimborsa anticipato cioè se bion mit facesse una una inversione a u o addirittura av rompe la barriera poi risale e va al di sopra del trigger la barriera continua non ha a quel punto avuto nessun effetto sul certificato è corretto corretto assolutamente corretto tutto quello che hai appena detto e quindi insomma questo è importante perché è vero la barriera è continua e quindi attenzione che è più rischiosa però proprio un titolo volatile come può essere bion mit è più insomma soggetto a fare queste escursioni magari crolla e poi risale quindi non per forza una barriera continua implica che poi si perdano soldi potrebbe non accadere naturalmente ecco ti faccio una domanda anna o pietro insomma chi vuole rispondere con il calo dei mercati diciamo quello di luni probabilmente che poi si sono ripresi tutti i certificati hanno perso valore perché sono calati i prezzi dei sottostanti ma alcuni sono più resilienti di altri è la profondità della barriera la struttura o la scadenza insomma cosa che determina la maggiore resilienza o la maggiore reattività di una struttura naturalmente non posso chiedervi di illustrare tutto eh però possiamo magari mettere qualche punto aggiungo io e poi ti lascio la risposta per dire questa struttura qui con barriera continua nonostante una profondità di barriera chiaramente più reattiva ai ribassi di di omit perché la barriera può essere rotta in qualsiasi momento quindi cosa sono gli altri elementi a cui si può guardare Anna? Allora rispondo io direi che ci sono due diciamo due eh variabili principali la prima è sempre la volatilità la volatilità dei sottostanti quindi magari viene giù il mercato però determinati titoli la volatilità di determinati titoli non si muove particolarmente e quindi questo eh rende il prodotto più resiliente chiaramente come dici tu però è anche vero che ci sono prodotti e prodotti nel senso che si vede chiaramente dal mercato secondario che i prodotti dove eh abbiamo un effetto principale eh degli scossi dove si sente prevalentemente negli scossi di mercato sono i prodotti con barriera americana o barriera di leon close dopodiché abbiamo i prodotti con la barriera europea e poi abbiamo i low strike i low strike sono i prodotti che tengono meglio il prezzo proprio perché non c'è quel salto digitale a scadenza e quindi il il payout è molto più lineare è legato al sottostante peggiore diciamo assolutamente sì tant'è vero che insomma gli airbag o appunto tecnicamente low strike sono assolutamente quelli più eh difensivi più resilienti capaci di resistere ai ribassi dopodiché appunto poi se uno volesse approfondire al di là di tutte le i momenti di formazione e informazione ma comunque eh siete immagino a disposizione poi per dare maggiori risposte anche su questo allora se mi permettete faccio visto che siamo più o meno in chiusura ci sono un po' di Aisin avevamo chiesto di segnalare quindi io andrei rapidamente a dare qualche parere qui ad esempio c'è Giovanni che chiedeva questo certificato a Leonardo sulla barriera e scade a novembre cosa faccio e ho in carico a ottocentottantacinque dice oltre a pregare che cosa faccio allora naturalmente Giovanni le risposte possiamo dare in quest'ambito sono sempre nell'ordine del facciamo un'analisi e poi mettiamo sul piatto tutte le 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 considerazioni e trai le tue per arrivare poi a decidere per risponderti sì prima di tutto guardiamo la situazione eh proprio sulla barriera hai detto bene Leonardo stacca dividendi in questo periodo ecco magari diamo un'occhiata rapida se c'è un pagamento di dividendi oddio non mi sembra che lo stacchi in generale o comunque proprio in questo periodo e no infatti beh no torna a giugno del duemilaventidue quindi eh sta proprio lì l'altro invece sta su e la situazione è questa ma eh che dirti Giovanni ti piace il rischio prova a tenertelo ancora un po' perché qui il passare del tempo naturalmente ti aiuta a viaggiare verso i mille e trenta ma il salto che fa da meno uno in poi è per la mia gestione è troppo alto ecco questo un po' per spiegare cioè detto in altre parole se chiude sopra sei ottantasette ti rimborsa mille più le la cedola e quindi arrivi a mille e trenta se chiude a sotto sei ottantasette basterebbe un sei ottantasei ti rimborsa cinque c'è sei cento sei otto e ottantacin sei a metà strada dovremmo fare prima di tutto un'analisi tecnica eh sul Leonardo e quindi capire se c'è una predisposta insomma una probabilità che possa salire o scendere ma dopodiché il mercato lo sai che va dove vuole quindi qui sei un po' tra rosso e nero francamente quando ci sono queste situazioni sono forse un po' troppo rischiose ma soprattutto quello che mi porta a dirti che a mio avviso è un certificato un po' troppo rischioso sotto questo punto di vista è questo salto che poi qui lo vedi con meno dieci meno trentotto ma in realtà scatta già da meno zero cinquanta e quindi ecco pregare potrebbe essere una buona soluzione ma se eventualmente volessi provare a mettere in campo qualche considerazione un po' più analitica mi sembra che il rischio non è supportato dal rendimento potenziale ecco eh rispetto ad oggi cioè puoi fare sedici ma perdi trentacinque di solito si cerca il contrario quindi credo di averti risposto e poi eh ho questo certificato su tecnip con prezzo medio di carico quattrocentoventuno posso continuare Anna e Pietro con questo questi sì assolutamente siamo qui anche per rispondere eh a tutte le domande certo volevo solo vedere se avevamo anche il tempo di fare le call sull' inflazione però forse stiamo andando un po' lunghi perché le avevamo nominate a inizio webinar tutto qui. Assolutamente adesso ci andiamo subito e quindi rispondo a eh almeno a questa e poi dopo vediamo le call sull'inflazione allora qui Anna Maria è il caso di switchare o essendo un airbag meglio tenere eh scadenza venticinque quindi lontanissima tecnip è vero che è lì sulla barriera analisi di scenario no sinceramente la scadenza è lunga è un airbag eh comunque che lo vedi su basterebbe un due per cento per fare ancora tutto la il piatto pieno quindi io in questo momento non mi muoverei ancora e poi eh allora questo ok abbiamo risposto poi dove trovo come funziona una struttura ecco Anna ci chiedono per approfondire eventualmente il funzionamento di qualche struttura allora assolutamente in alto su eh servizi quindi servizi c'è un menu a tendina tipologia di prodotti e qui eh abbiamo eh le le express ad esempio che è la struttura se vogliamo più comune cliccando su express esatto la parte evidenziata in rosso è una presentazione eh molto breve perché di fatto sono tre pagine scritte e una delle tabelle di potenziali scenari a scadenza e qui andiamo a descrivere in modo secondo me molto estremamente chiaro quello che è il funzionamento di questa tipologia di prodotto e ne abbiamo vari di presentazioni di questo tipo come appunto si può tornare a vedere su servizi tipologie di prodotto e qui abbiamo eh il low strike ad esempio che sono gli airbag abbiamo una presentazione sugli inverse una presentazione sui floor una presentazione su multi chance insomma abbiamo creato tutte queste presentazioni proprio per chi volesse eh chiarire eventuali dubbi su sulle strutture e sul funzionamento delle singole strutture bene poi ci chiedono riferite alla barriera al prodotto di prima velocemente se rompe la barriera più volte e anche alla scadenza e al di sotto quale sarebbe il valore di rimborso il peggiore realizzato o l'ultimo si vede quello che a scadenza sì l'ultimo quindi di quanto vale a scadenza quindi non è che fotografa il peggiore toccato durante la vita no quindi quello che alla fine esempio barriera cinquanta il bayon mint chiude a meno cinquantacinque per cento dall'emissione rimborsa quattrocentocinquanta euro senza considerare eventuali cedole che nel frattempo potrebbe aver pagato assolutamente allora inflazione velocemente sì abbiamo con noi l'esperto che è Pietro che abbiamo fatto parlare poco stasera quindi insomma lascio magari la parola a lui Pietro scusate ero in mute Pietro Paolo allora se intanto apri il tuo articolo così ce l'abbiamo sotto con gli ID nella descrizione iniziale ci aiuta sicuramente noi poi li dovremmo fare caricare sull'home page in modo tale che sia facile arrivarci allora magari dico io due parole al volo su questi prodotti visto che siamo proprio agli sgoccioli abbiamo ricevuto tantissime richieste di prodotti per coprire i portafogli dall'infrazione di recente da molti clienti e quindi abbiamo studiato un pochettino che cosa fare e abbiamo emesso due certificati che sono di base due opzioni opzioni call sull'indice europeo CPT FEMU che è l'indice dell'infrazione europea diciamo allora questi prodotti e vediamo qua i due IZIN quindi quello che finisce con 66 e quello che finisce con 64 sono due prodotti che di base sono simili ma funzionano in modo diverso perché sono due call option sullo stesso indice allora il primo prodotto che ha strike 100% è decisamente il più semplice da spiegare e funziona in questo modo è una call a due anni e l'investitore a scadenza riceverà l'inflazione di due anni che cosa significa facciamo un esempio pratico e semplice l'inflazione di quest'anno è del 3% l'inflazione del prossimo anno è del 4% l'investitore riceverà il 7% ora se non ricordo male a memoria il prezzo di questo certificato l'ultima volta che ci ho guardato era poco meno del 5% che cosa significa questo significa che su un investimento di 100.000 euro investendo 5.000 euro in questo prodotto noi avremo a scadenza dei due anni l'inflazione su entrambi i due anni sui 100.000 euro quindi questo 47 87 che vediamo qui rappresenta diciamo un po' meno del 5% no? Quindi e quindi se l'inflazione salirà oltre il 5% quello che farà di più sarà l'effettivo guadagno viceversa se dovesse crescere meno del 5% praticamente quello è il premio che si paga e non non ci sarebbe profitto insomma esatto diciamo che noi siamo in pari con un'inflazione del 2 e mezzo per anno per questi due anni e infatti lo leggiamo anche qui il break even quindi il punto di pareggio considerato il prezzo corrente di circa 47 è a 112 e 31 punti di indice ovvero una uscita delle inflazioni circa due punti e mezzo annui pertanto se l'inflazione insomma dovesse poi andare oltre questo due punti e mezzo si va a guadagnare qui è invece il punto di pareggio dove non si guadagna e non si perde esattamente invece il secondo certificato come funziona non ha uno strike a zero ha lo strike a 2,2 per cento questo significa che noi andremo a guadagnare per i prossimi due anni diciamo il differenziale di inflazione realizzata rispetto al 2,2 per cento cosa significa significa che se l'inflazione dovesse essere al 3 per cento per entrambi gli anni noi per ogni anno andremo a guadagnare lo 0,8 per cento quindi totale 1,6 per cento questo certificato questo certificato costa di meno chiaramente quanto costa l'ultima volta costava 80 bips quindi lo 0,8 per cento andiamo a vedere adesso sì esatto 8,21 naturalmente non è un prodotto da trading eh questo lo dico anche perché chiaramente uno guardando anche un po' i prezzi non è che lo compri oggi lo rivendi domani o ricompri insomma è un prodotto da mettere in un portafoglio per difendere appunto quello che è come dicevi tu la richiesta che è arrivata di avere in portafoglio un qualcosa che difenda dall'inflazione qual è la differenza principale tra i due di base noi nel primo stiamo comprando una call option in the money nel secondo caso una call a the money quindi nel secondo caso il premio che andiamo ad investire è molto più basso quindi di base scusate un po' di tosse e se noi avessimo centomila euro e abbiamo paura di un aumento enorme dell'inflazione comprando 800 euro di questo certificato tutto quello che sarà l'inflazione realizzata superiore al 2,2 per cento ci verrà pagata e quindi ci consente di proteggere i centomila quindi questo il premio è praticamente grazie ad una leva molto molto importante insomma esattamente ecco guarda io l'avevo detto probabilmente l'avevo anticipato le domande che ho detto non è un prodotto da trading guardando appunto lo spread denaro letter e quindi ci stanno chiedendo perché questa differenza tra denaro e letter allora la differenza è dal fatto che è un prodotto un pochino complicato da gestire e quindi sono i costi di strutturazione sono esattamente legati a questo il consiglio chiaramente qual è di comprarlo e di tenerlo non è un prodotto per farci trading il momento in cui si tenesse fino a scadenta che è di due anni il bid offer diventa quasi ininfluente purtroppo questo è quello che siamo riusciti a negoziare con trading ecco ci chiedono ma il capitale non so la domanda di Michele che cosa intende che fine fa o che capitale serve non ho capito la domanda Michele se vuoi chiarire meglio comunque la domanda è mai il capitale il premio è a rischio esatto eh che fine fa eh la se se come abbiamo detto se l'inflazione rimane sopra il due due di eh apprezzamento annuo per i prossimi due anni c'è il break even e si guadagna se dovesse ad esempio essere un'inflazione dell'un per cento si va al di sotto e a quel punto il capitale si perde corretto Pietro sia zera corretto certo ok è proprio come se la eh capisco le domande che giustamente abituati a parlare sempre di prodotti con barriere che seppure le cose non vanno non è che perdi tutto qui in questo caso però ricordiamo sempre queste fanno parte della famiglia delle opzioni dei 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 warrant dei call warrant quindi praticamente quando uno compra una call quando compri un'opzione paghi un premio se scade in the money hai un valore intrinseco se scade out of the money non prendi nulla quindi è è così Michele per questo motivo che su centomila di portafoglio si spendono ottocento euro perché seppure li perdi tutti alla fine hai perso uno zero virgola zero otto va bene allora a questo punto io direi ci possiamo fermare qui c'era una domanda su dei reverse ma tanto mi sembra che non ci sia granché quindi non ho approfondito e ci torneremo insomma quanto quando il mercato eventualmente consentirà la costruzione nuovamente di prodotti reversi interessanti siamo andati un po' lunghi ma le domande e gli argomenti erano da affrontare pietro anna se vogliamo volete aggiungere qualcosa altrimenti ci salutiamo ringraziamo chiaramente tutti è sempre un piacere grazie anche a te per paolo davvero è sempre un piacere organizzare questi webinar per chi non avesse avuto l'opportunità di porre o sentire una risposta alle proprie domande può scriverci a info italy chiocciola leontech.com eh noi vi invitiamo appunto sempre a darci feedback a scriverci per domande siamo qui per per aiutarvi e grazie davvero ci vediamo alla prossima occasione insieme grazie pietro anche a te naturalmente grazie per paolo e grazie a tutti buona sera benissimo allora prossimo appuntamento con il prossimo webinar adesso non ricordo la data ma tanto se siete iscritti riceverete poi come al solito un avviso per collegarvi grazie ancora buona sera da tutti ciao anna ciao pietro ciao grazie ciao ciao